Buongiorno, sono nel parcheggio di Bricoio, sono venuta a comprare un barattolo di vernice bianca perché stamattina ho combinato un vero disastro a casa, stavo facendo il caffè a Gio, volevo fargli trovare la colazione pronta prima che si alzasse e invece non mi sono accorta che c'era il cassettino della macchinetta del caffè che era completamente pieno di caffè e pulendo intorno mi sono agganciata al cassettino e l'ho tirato giù e ho fatto una bella strisciata di caffè sul muro, quindi sono venuta ad Abrico a vedere se c'è un barattolino di vernice bianca in maniera da risolvere la cosa. Nel frattempo, visto che proprio qua dietro c'è l'hub vaccinale, sono venuta a sentire se tante le volte mi potevano fare la terza dose senza l'appuntamento e mi è stato detto di no. Purtroppo sul sito ancora mi dice che devo aspettare otto giorni prima di scegliere la data della vaccinazione e quindi ho tentato di accelerare un po' le cose ma niente, sono stata rimandata gentilmente a casa. Va bene, ragazzi, ragazze, buona giornata a tutti, have a nice day, bye!